salve allora stola fatta con schema basta lavorare preciso preciso con schema e vieni bellissima stola lunghezza come piace voi mi è venuta 180 x 44 centimetri di larghezza allora vediamo schema schema ai rapporti significa questi 35 magli se volete stola più larga potete fare 23 volte e ha fatto due volte iniziamo con questo bordo questo sempre bordo anche questo bordo e continui e finisce pure bordo e bordo allora lunghezza di questo rapporto 43 righe però 43 righe dispari abbiamo pure righe pari per questo diciamo 86 righe come leggiamo questo qua bordo 6 maglie facciamo così guardate qua scritto uno diritto uno raves senza lavoro filo ma teniamo avanti e poi quando lavoriamo per i pari lavoriamo come presentano maglie in altre lezioni già fatto vedere come leggere maglie sul lavoro poi una maglia diritta poi iniziamo due maglie insieme a destra poi gettato ma faccio vedere tutto e poi finisce con gettato 10 maglie dovrebbe rimanere poi iniziamo rapporto già detto che con stola mia fatto due volte rapporti come lavoriamo io già presa maglie e faccio vedere solo sul filo come lavoriamo questi magli allora prima maglia sempre bordo potete lavorare potete togliere senza lavoro e come preferito detto sempre allora questi sei mali ho detto una diritta una raves senza lavoro filo avanti lavoriamo una diritta altra senza lavoro filo avanti così diritto poi filo mettiamo sopra come vogliamo fare raves però non lavoriamo a tagliamo maglie diritto classico e senza lavoro così sei mali cantano una questa bordo 1 2 3 4 5 6 e mettiamo segna maglio così dopo non contate ogni volta questi mali dopo iniziamo a 10 mali lavorare guardate insieme a destra e poi gettato come facciamo insieme a destra semplice come lavoriamo a maglia classica diritto prima sempre poco duro però infa niente così allargata e facciamo e due fatto e poi gettato gettato diritto altra volta 2 e getto così così facciamo 10 maglie 9 e ultimo oggetto mettiamo altra volta segna maglia così sappiamo altro bordo e noi iniziamo rapporto 2 a sinistra come facciamo a 2 a sinistra questa acqua maglia prendiamo e cambiamo posto e poi facciamo così dietro insieme 6 lavorate con caleido una e poi altra lo stesso cambiato insieme fatto dopo vedete due diritte lavorate due diritti io per fare semplice non cantare ogni volta già scritto quando diritti guardate 10 16 14 poi dietro così non conta solo vedo quando allora due diritti due diritti fatto adesso due insieme a sinistra cambiamo maglia e facciamo due insieme diritti fatto poi gettato 1 2 3 4 5 6 6 gettati allora cantano 1 2 insieme a destra sappiamo allora 1 2 insieme a destra come facciamo diciamo a 6 6 6 3 5 5 6 3 5 6 4 5 6 6 6 6 fatto adesso due insieme a destra la quando a destra lavoriamo a due insieme come classici due classici due classici fatto allora questo fatto adesso 16 maglie diritte lavoriamo a 16 ma le diritte una due tre quattro cinque sei sette 8 9 10 14 16 fatto 16 e poi due insieme e sinistra significa prendete così questo già girato uno questo cerano come fatto prima sinistro fatto se volete fare altro rapporto e dovete fare se maglia della stola deve venire più larga mettete segno significa che questo rapporto finito iniziamo da capo solo questi qua 35 magli al travolto d'acqua quando ho fatto continuiamo a fare nostro bordo questo gettata due insieme a sinistra una diritta con tutti i magli e lavoriamo questo quadro con fatto riga adesso iniziamo a fare rovesse rovesse lavoriamo come presentano magli questa diritta questa rovesse questa diritta questa rovesse questa diritta questa rovesse vedete altre mie lezione dove gli ha spiegato sempre come devi leggere magli e qua lavoriamo pure come presentano magli e rovesse getto facciamo sempre rovesse e così quasi tutta riga venire rovesse rovesse classica pure già fatto vedere come fanno non torniamo dietro andiamo avanti ok non continua e e così lavoriamo io per leggere meglio migliori per non sbagliare stampato messo così e poi cielo elastico così ogni riga che ha in numerazione io metto elastico guardate così fatto prima riga poi chiudi sposto fatto spostato fatto spostato e poi cielo non preparato aveva sul filo sul ferro segna righe che girano messo sul ferro ogni riga che è fatto giro giro e così sempre so in quale righe già fatto quando ho fatto 40 tutti 43 iniziate altra volta scendete giù iniziate da prima buon lavoro così bloccano con spile quando lavato per asciugare questa blocco guardate come bella poi quando asciuga già vedete già vedete così faccio tutto tutto guardate 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 guardate